Grazie a tutti. Allora, aspettiamo, andiamo avanti ancora, poi quando abbiamo l'emissione complessa da flua e da poppa, andiamo alle rive di Sant'Olobato. Stai andando, stai andando, stai andando, stai andando, stai andando, non è ancora il momento di andare alità, i portoguardi, stai andando, andati. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti